Bella questa stagione in cui fascio due metri fuori casa per andare a prendere i pacchi e i titti zuppigolenti ma vabbè oggi pacchettino minuscolo che volevo andare però ad aprire con voi non c'entra niente con la stampa 3D potrei farci qualcosa c'ho già due idee in mente però insomma avrete letto il titolo questo afferino qua potrebbe essere una cosa molto molto interessante oppure un giochino costoso per adulti quindi andiamo subito a spacchettarlo innanzitutto vi dico che non l'ho comprato dallo store ufficiale bensì l'ho preso dal rivenditore ufficiale forse tipo uno degli unici in Europa che spedisce direttamente dalla Francia ah e dentro ci sono anche questi due sticker sempre molto pirateschi che vengono come vi dicevo dall'Hub 401 è uscita recentemente una versione limitata trasparente mentre invece in genere sarebbe tipo bianca e arancione a me il trasparente fa impazzire è una cosa che mi piace veramente tanto e quindi ho detto ok lo compro questa dovrebbe essere quella versione dal sito ufficiale non era più disponibile perché ovviamente è stata deturpata però da questo sito che era menzionato anche sullo store di Flipper era disponibile quindi ho detto boh proviamo quindi unboxing senza distruggere la scatola perché è veramente molto carina comunque ecco adesivo la camera di sopra non c'è perché sto aspettando che mi invino l'obiettivo nuovo dalla Germania quindi ci accontentiamo un attimo così comunque aprendo la scatola ci troviamo davanti subito mini manualetto di istruzioni semplicemente un foglietto poi cavetto USB A e USB di tipo C e poi vediamo un po' oh sì devo essere onesto pensavo di ritrovarmi davanti alla versione bianca perché magari avevano sbagliato a etichettarlo, inviarlo o cos'era invece no è proprio la versione trasparente guardate che spettacolo questo qui lo andremo a vedere un attimino tra poco prima vi faccio vedere le altre cose che ci ho comprato insieme altrove semplicemente una microSD da 32GB perché qui sotto possiamo mettercene una per installare della roba allora questa non serve che ve la unboxo poi ci ho preso questa qui che è la custodia ufficiale sempre di flipper l'ho presa arancione perché non c'era di altro colore o altro comunque l'ho presa ovviamente per evitare di graffiarlo di cosarlo perché tanto è un dispositivo che lo terrò in tasca quindi sicuramente insomma una protezione in più anche per eventuali cadute accidentali può far comodo oltre alla fondamentale custodietta in silicone ho preso anche questo che in realtà non sarebbe altro che la dev board per aggiungere al flipper il wifi cosa di cui in realtà è sprovvisto dentro c'è già alcune cose tipo ad esempio il bluetooth e quello che è chiamato il sub gigahertz quindi tante di quelle frequenze che servono ad esempio per aprire i cancelli per accendere e spegnere alcune prese smart eccetera eccetera come si suol dire diluvia comunque andiamo a vedere un attimino che cosa c'è dentro in realtà sarà molto molto semplice perché dentro troviamo soltanto la schedina diciamo di espansione un po' bruttarella perché concettualmente andrà installata così qui in cima insomma non è proprio il massimo della praticità e dell'estetica comunque momento pellicola e a questi punti direi anche prima accensione ok qui c'è un po' di tutorial I'm tradino adoro ok ah qui ci parla del livello perché viene visto un pochino come un giocare l'hacking ogni volta che faremo qualche azione tipo mandare un segnale clonare un tag NFC ah ecco perché tra le tante cose c'è anche un emulatore NFC al suo interno e mi sembra tipo RFID e altro vabbè insomma praticamente il delfino progredirà proprio a livelli come se fosse tipo un gioco di ruolo comunque proseguendo ok qui infatti ci dice che serve la micro SD che ovviamente andremo subito a mettere ok inserita quindi una database bla 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 ok e qui adesso siamo nella home page del nostro flipper qui abbiamo tradino sarà il nome del nostro flipper in realtà dovrebbe essere univoco e non modificabile per ognuno di questi ma in realtà essendo praticamente un arduino un po' sovrapprezzato ci si possono installare dei firmware custom di conseguenza possiamo andarci a fare più cose anche illegali cosa che ovviamente non dovremo andare a fare quindi questo qui dovrebbe essere relativamente univoco perlomeno coi firmware stock invece dei firmware non originali ovviamente possiamo andarlo a cambiare ok browser empty e qui abbiamo lock set pin dumbo mode che not implemented ok dobbiamo innanzitutto fare l'aggiornamento del firmware ora sto andando ad installare la sua applicazione fare l'update via smartphone ok premendo il tasto centrale andiamo qui dentro che ci sono le varie impostazioni sub gigahertz bla 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 però adesso per fare l'update del firmware dobbiamo andare qui bluetooth on dopodiché dall'app premiamo su connect ovviamente la consentiamo 3x0 tradino connettiamo qui dobbiamo no è cioè è bellissima sta roba qui ovviamente c'è il codice per collegarci via bluetooth e con queste immagini che sono secondo me veramente bellissime abbina quindi adesso li abbiamo collegati via bluetooth qui ci fa già vedere che è la versione trasparente adesso andiamo a fare l'update del firmware ovviamente possiamo impostare la release le release candidate le development o le custom quindi addirittura possiamo prendere da qui caricare un firmware custom cosa secondo me molto interessante di cui ne andremo a parlare perché ovviamente sono quelli che vi permettono di fare un po' di tutto non soltanto cose illegali ma semplicemente vi danno più funzioni che possono essere comode per tra virgolette tutti i giorni quindi facciamo update ok come potete vedere ci sono un botto di animazioni di immagini qui sopra del delfino e allora intanto che fa l'aggiornamento di questo firmware quello che vi voglio dire è questo affare qui letteralmente è un arduino con un display vari sensori una batteria e tecnicamente con neanche 50 euro potremmo rifarlo ovviamente non è così perché mettiamo un po' a posto sta roba che vi sta ora nell'inquadratura comunque non è propriamente così la questione perché nella maggior parte dei casi non stiamo pagando un prodotto in sé ma stiamo pagando anche tutto il suo ecosistema quindi qui c'è la app comunque tutta la community che voi non voi sono riusciti a creare attorno a questo sistema perché ci sono veramente come dicevo un sacco di custom firmware di applicativi di tutorial che è vero gli ha fatti la community però comunque la community è stata ovviamente spinta dal loro forte marketing perché vi ricordo questa affare qui costa al netto delle tasse più di 200 euro non è proprio uno scherzo comunque ora che lo tengo in mano così senza covere è veramente pesante cioè lo sentite in mano peserà più o meno quanto l'iPhone quindi insomma che bello ho parlato mezz'ora alla telecamera senza che potesse registrando comunque storia lunga fatta breve ho finito di aggiornare il flipper come potete vedere qui c'è una bobina di Bambulab è dotata di due tag tipo NFC RFD una cosa del genere che servono per far capire alla stampante che bobina avrete inserito qui nella MS questa cosa che mi piacerebbe integrarla anche nei miei altri filamenti visto che costa una scemata in realtà giusto per fargli capire ad esempio che colore ci stiamo andando a mettere ma anche che tipo di filamento è mi piacerebbe fare una cosa del genere ma non so se è possibile ecco questo dispositivo qui ci permette probabilmente di andare ad hackerare questi cipettini per prendere e andare a creare i nostri ovviamente possiamo farlo anche con dei lettori da computer assolutamente sì però con il flipper è parte più divertente e poi sicuramente ci dà la possibilità di farlo in modo molto più manuale cioè nel senso abbiamo questo dispositivo abbiamo la bobina da una parte tac la scannerizziamo si prova e quant'altro e sicuramente potrebbe essere una cosa interessante adesso sta cercando con un dizionario di entrare dentro al contenuto di questo di questo tag ma probabilmente non lo troverà quindi lo stop funzioni che possono far comodo sono già integrate come ad esempio questo qui autentica come amiibo che non sarebbero altro che tipo dei personaggini sbloccabili sulla nintendo switch oppure anche come potete leggere qui sotto il purificatore d'aria xiaomi anche lì i suoi filtri hanno una specie di tag nfc come ad esempio questo per identificare che filtro state andando a mettere sul purificatore d'aria ecco con questo dispositivo qui possiamo accederci e fare svariate cose sicuramente un oggettino molto simpatico che in realtà vi permette di fare un sacco di cose allora lasciate stare quello che vi fanno vedere su tiktok o roba del genere che letteralmente entrano in banca e fanno cose ma nella realtà dei fatti i cancelli li potete aprire sì ma con tanti ma le macchine non potete farci fondamentalmente nulla se non avete il telecomando e la macchina di fatto quindi a quel punto è inutile o comunque è utile per uso personale perché siete autorizzati a farlo male che vada se andate di fianco ad una tesla potrete aprire lo sportellino della ricarica ecco quello sì lo potete fare però di base non vi permette di fare nient'altro di illegale che non potete fare con un arduino o con una smartphone android eccetera eccetera quindi ora lasciamo stare tutto il discorso dell'hacking mister robot e quant'altro non è questo il caso semplicemente è un dispositivo molto carino che ovviamente l'ho bramato per un sacco di mesi però visto il prezzo visto la disponibilità ho detto ok lasciamo stare però adesso me l'hanno fatto in questa versione trasparente me ne sono innamorato e l'ho voluto comprare come vi accennavo prima progetti con la stampa 3D non ne dovrebbero mancare sia dal punto di vista di tag perché sarebbe interessante fare un sistema magari di gestione delle bobine in qualche modo ora non lo so vediamo butto un po' di idee ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se magari avete qualcosa da aggiungere o da consigliare comunque è anche dotato di varie porte logiche quindi in realtà si può fare anche dell'altro con questo dispositivo quindi boh non lo so secondo me si può utilizzare in tanti mod diversi quindi onestamente non vedo l'ora di approfondire un pochino l'argomento magari anche per l'appunto con i custom firmware e quant'altro quindi niente ragazzi io penso di avervi detto tutto mi raccomando se aveste qualcosa da aggiungere o da consigliare magari delle funzioni carine che possiamo portare qui sul canale a riguardo oltre a tutta la parte come vi accennavo di tutti i custom firmware eccetera eccetera mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti e quindi niente questo breve video di introduzione e finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace iscrivetevi commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video